Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa nuova lezione di geografia. Vi siete già iscritti al canale? Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati. Oggi approfondiremo la conoscenza del terremoto. Che cos'è un terremoto? Un terremoto è una vibrazione nel terreno che si verifica a causa di improvvisi movimenti di masse rocciose all'interno della crosta terrestre. La parola terremoto deriva dal latino terremotus e significa movimento della terra. Il terremoto è anche chiamato sisma o scossa tellurica. osserviamo attentamente questa immagine. Nel sottosuolo le rocce si spaccano o scorrono tra loro all'improvviso a causa delle spinte dovute ai movimenti della crosta terrestre, formando un piano di faglia. Il meccanismo che origina un terremoto viene chiamato rimbalzo elastico. Facciamo un paragone per comprendere più a fondo. Immaginiamo di prendere tra le mani all'estremità un bastoncino di legno. Il comportamento dei due blocchi rocciosi ai lati della faglia, infatti, può essere paragonato a quello di un bastone che viene flesso tenendolo alle due estremità. Proprio come il bastone, i blocchi rocciosi si deformano e immagazzinano tutta l'energia elastica. Se il bastoncino viene flesso in modo eccessivo, si spezza e le due parti vibrano, liberando l'energia che avevano accumulato. Così, quando l'energia elastica accumulata supera la resistenza delle rocce, si verifica un brusco spostamento dei blocchi rocciosi lungo il piano di faglia, a partire proprio dal punto di maggior debolezza. Questo brusco spostamento lungo il piano di faglia permette di liberare l'energia accumulata, che si propaga in tutte le direzioni sotto forma di onde sismiche. Le onde sismiche, quando arrivano in superficie, causano la vibrazione del suolo, cioè il terremoto. Le onde possono essere sussultorie, ossia quando determinano un movimento su e giù, oppure ondulatorie, se determinano un movimento destra-sinistra. Il punto in cui si origina il terremoto, da cui si propagano le onde sismiche che raggiungono la superficie, viene chiamato ipocentro. La proiezione verticale dell'ipocentro sulla superficie terrestre, che corrisponde all'area dove il terremoto provoca i danni maggiori, viene invece chiamata epicentro. Osserviamo attentamente questo schema. Il terremoto può verificarsi anche sul fondo del mare. Il movimento del fondale marino può provocare un'onda gigantesca, che diventa sempre più alta man mano che si avvicina alla costa. Questo fenomeno si chiama maremoto o, con un termine giapponese, tsunami. Gli tsunami possono essere anche provocati dalle eruzioni sottomarine. Come si misura l'intensità di un terremoto? La misura della gravità di un terremoto viene definita magnitudo ed è espressa con un numero decimale. La magnitudo è l'energia liberata dal sisma. Viene misurata con la scala Richter. Fino ad oggi il terremoto più grave è stato quello avvenuto in Cile nel 1960, terremoto con magnitudo 9,5. Esiste anche un altro modo per misurare l'intensità di un terremoto. La scala Mercalli, che misura gli effetti di un terremoto sul territorio e sui suoi abitanti. Stabilisce l'intensità di un terremoto in gradi. Nell'immagine possiamo vedere messe a confronto la scala Richter, la scala Mercalli e gli effetti dei diversi terremoti in base alla loro intensità. Un terremoto infatti può essere solo registrato dagli strumenti o appena avvertito sino ad essere totalmente distruttivo. Ora tocca a te. Osserva attentamente queste immagini. Sai di che si tratta? Fai una breve ricerca in rete e dai il nome a quanto rappresentato nelle due immagini. Parti dallo strumento rappresentato nella foto più in basso. Prova a spiegare a cosa serve. Saprai anche rispondere alla domanda relativa all'immagine superiore. scrivi le informazioni che hai imparato sul tuo quaderno e in classe ti confronterai con i tuoi compagni. Da ultimo, sai come comportarti in caso di terremoto? Osserva attentamente queste immagini. sul tuo quaderno costruisci il decalogo dei comportamenti corretti. A presto ragazzi, arrivederci. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare like. Vi aspetto alla prossima lezione. A presto!